ciao a tutti come state noiosa questa quarantena chiusi in casa ma non preoccupatevi anche questa settimana abbiamo l'allenamento per voi lavoreremo col bagger di seguito ci sarà un video con degli esercizi proposti mi raccomando cerchiamo di non distruggere la casa e di non far arrabbiare mamma perché sennò poi si arrabbiano con noi fatto questo ci sarà la solita proposta di sfida che dire buon lavoro e buon divertimento ciao è vero so now you're back again thinking all that you did is gone but baby I can forgive you so you're better for we'll cut that door yeah see you're here running and you say that your love is true boy you think I can resist you so you're better for before I go I don't know why we still restless I know that it's true I don't know why we still restless I know that you know ottimo speriamo che siate riuscite a far tutto la sfida di questa settimana sarà fare bagarre di controllo sopra la propria testa sedute per terra con l'oggetto più strano in assoluto che possiate avere io non mi separo dal mio rotolo di carta igienica aspettiamo un sacco di vostri video e mi raccomando state a casa ciao a tutti grazie